e bentornati in super mamma mia 2 oggi faremo una sfida per il natale contro frozen differente rispetto alle altre volte volevo fare una cosa di differente perché mario me che ormai abbiamo portato in ogni salsa possibile immaginabile quindi quello che faremo oggi è sfidarci nella sfida difficile infinita e vedere chi riuscirà a completare più livelli chi riuscirà più completare più livelli guadagnati del giorno come ti senti preparata questa sfida non giochiamo mario me che da più di un anno io non gioco a super mario maker da l'ultimo video fatto sul canale forse due anni fa addirittura non possiamo schif fare livelli non possiamo schif fare nulla dobbiamo continuare finché possiamo ma first level look out ma non è vero mai nella vita che il tuo primo livello è già in difficile lì c'è una pianta piragna ma è fissa siamo allo stile di super mario 3 se non mi ricordo male c'è qualcosa ok perfetto non male non male adesso non so però c'è uno spunzo no è vero gli spunzo in questo gioco solo così uh stiamo già andando non so però se lui è abbastanza intelligente quello che ha creato il livello da fregarmi con l'on off o cosa però meglio meglio se sono piccolo meglio boh io lo premo di nuovo vediamo cosa succede vediamo dove mi porta fra dove mi porta checkpoint subito buono ok ma qui ma qui che che sta succedendo tutto sommato è anche un bel livello what ma devo sconfiggerlo in qualche modo ah ok una chiave che aprirà una porta questa è la fine del livello wow 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 eccola va che difficile salirci eh ok uh uh che succede fra non ho fatto niente ok devo entrare qua per forza e adesso checkpoint ma improvvisamente si vede di nuovo no è una corsa per forza no è vero ci sono le monete in alto le ho viste no spunzo che mi fai questo aspetta ok sto volando no 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 ah si ok good job c'è scritto qualcosa ma non riesco a leggerlo corri corri ok dove devo andare ah sono già arrivato ok ma l'altra chiave dov'è secondo me è qua vicino per forza no è lì è lì sopra no 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 fatemi scendere dove sono no no la chiave va bene va bene va bene ottima strategia posso comunque controllare il livello adesso posso vedere cosa c'è di nascosto le insidie tutte ste cose qua mi suicido perché tanto ormai è andata ok buono eh ma come faccio a volare fra è impossibile non posso più andare avanti non ho power up ah no ok ci sono le scatole è vero è vero è vero si può si può ok ok buono buono qua non dovrebbero arrivarci ok no di nuovo come si scende muoio ti sto odiando gioco ti sto odiando ok perfetto ok buono buono ok buono qua c'è una trappola oh no oh no oh no salgo qua salgo qua no mi serve per forza che succede che succede no c'è un fungo lo voglio ok per forza così no 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 devo aspettarli c'è ancora l'autoscroll no no ho la chiave ok la lava si ferma teoricamente qua e io qua cosa faccio no no di nuovo no ma come si fa sta parte ma come si fa ok no non l'ho mai fatto ok qua non dovrebbe arrivare perché ora ci arrivi no 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 oh che culo come faccio ok ok ma è diventato un balletel è possibile no 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 c'ero arrivato ok cerchiamo di tenerla toglilo eh togli questa parte mi vergogno eh ok no 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 non mi conviene salire adesso ora 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 fra ma è un trucco ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho aiuto aiuto fra puoi scendere per favore sei troppo in alto mio dio mio dio ok buono buono wow ok entro nella porta entro nel tubo ho finito ho finito no potevo prendermi il 5 il 30 più 2 ok one up one up one up oh è giapponese è giapponese vabbè vabbè finchè son qua finchè son qua no difficilissimo eh ok 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 era lì era lì sarò una delusione gioco di merda allora non so ancora quante livelli è riuscito a fare frozen ma il mio record è 7 dubito che riusciremo a battere il mio record oggi ma cerchiamo di fare il nostro meglio sono incredibilmente arruginito nuova partita nome giapponese non so leggere l'ho fatto da Lao Go con estetica di Mario per Wii al momento inocente di pericoloso quindi mi sento abbastanza tranquillo wow si vede che sono eh niente ok ma no è stato difficilissimo scala questa parete ho capito che sono un pochino un pochino un pochino un pochino arruginito ma fino a un certo punto fino a un certo punto un pochino arruginito calmi ok qua non sbagliamo perché in realtà è semplice sbagliare con salti del genere forse potrei farlo un pochino più così no non si è fermato no ma non ci credo ma non ci credo non posso perdere questo questa è una pessima partenza è un'orribile partenza io non ci posso credere era così difficile madonna ora sei difficile madonna ora sei di ok riesco a fare questo ma non quello di prima non ci riesco a credere ok ci siamo 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 ma è tutto così sto livello cacchio ma è tutto così sto livello non vedo ok ma è tutto così sto livello ma non ci posso credere salto su parete salto qua salto qua no è qua la fine no ho visto lo spazio dove già la lascia speedrun speedrun improvvisamente speedrun speedrun contro frozen attenzione è che mi sa fosse natale invece una speedrun e invece una speedrun oh oh no no come facevo è senza checkpoint è senza checkpoint io non posso perdere solo con un singolo livello posso passare in mezzo secondo me si è l'unico modo il salto della vita ma come mai è mo lo sapevo cacchio basta sbagliare una cosa in sto livello lao go che problemi hai mi serve sto livello perché non è un livello semplice per iniziare qualcosa per sgranchirmi le ossa per rimettermi nei miei panni di esperto di mamma mia a due e dai invece mi dai questo seguirò tanti ovunque mi dai questo dai come poi fai il salto della vita ora non mi salti neanche questo 5 pittere non ho ancora fatto il livello perché lo spinge a me non ero neanche con il tasto vicino ma mi dimmi mi si imputtare ora in questo istante adesso una roba reale completamente locata all'interno della tua cucina la posso vedere no va bene dai ma cos'è sto salto ogni volta ho tue vite due tentativi non ci credo non ci posso credere non ci posso credere perdo il punto su mario maker era a casa era il punto scontato che c'era un po' ovvio durante questo natale contro frozen mi sono detto e vabbè con altri giochi sono un pochino più random non c'erano la sicurezza di prendere il punto almeno mario maker me lo porta a casa easy e invece e invece spera abbia fatto anche lui zero l'unico cosa posso sperare non so come fare non so come fare non so come fare non ci credo non ci posso credere io non ci credo io non ci posso credere non ci posso credere vabbè che mai è frozen Mario number one non lo è con giucciate le mie palle bene bro com'è andata a te da merda e tu livelli completati uno e tu uno anche tu fra zero cioè io pensavo di essere stato sfigato ma non ci Grazie.